Ciao, sono Erika Santoro, ho 20 anni, è iniziata una nuova avventura, mi sto trovando davvero bene, sia con la squadra che con lo staff, è un bel ambiente e spero possa dare qualcosa anche io. Sono Sofi, ho 19 anni, vengo dall'Olanda e gioco nel centrocampo. Sta andando sempre meglio, mi sto trovando bene. Io spero di crescere sia personalmente che con la squadra, di fare meglio dell'anno scorso. Siamo una squadra molto giovane, comunque ci sono anche le ragazze con l'esperienza che ci possono aiutare a noi giovani a crescere. Bari comunque è una bella realtà, quindi sono molto contenta che sono state ripescate perché è l'unica realtà davvero del sud che riesce a fare qualcosa di davvero buono nel campionato di Serie A. È una bella sensazione, tornare comunque dopo due anni di esperienza in quell'ambiente, comunque ci ho lasciato il cuore. Ci sono stati alti e bassi, però comunque sono cresciuta molto a livello personale e calcistico e sono molto contenta di affrontarle e vedere come si trovano. Allianarsi qui è bello, la società è bella, la struttura è bellissima, possiamo dare il massimo con questa struttura. Il mio obiettivo personale è di dimostrare a me stessa che riesco a superare i miei limiti e ovviamente esprimere sempre di più il mio calcio, quella che sono, e dare anche alla squadra un mio contributo. E spero che questo campionato ci dà delle grandi soddisfazioni perché noi daremo tanto, tanto impegno. Forza Sassol!